Cioè questo è un rossetto e ne contiene il primo, il secondo e il terzo Allora le colorazioni non lo fa vedere il video all'interno del rossetto ne sono quattro Abbiamo il primo che sono queste combinazioni di colori Poi abbiamo il secondo che sono queste E poi abbiamo il terzo, il mio preferito, che c'è anche il rosso Ora vi faccio vedere com'è Allora iniziamo, si toglie il tappino e c'è il primo colore Poi svitando proprio semplicemente abbiamo il secondo colore più scuro Poi svitando semplicemente abbiamo quello ancora più scuro E poi svitando sempre semplicemente abbiamo quello un po' più chiaro Allora ho fatto il leggero contorno delle labbra e lo andiamo a provare Ecco qui applicato Questo risultato li trovate su Shiglam Allora ho fatto